Ciao ragazzi, benvenuti sul canale appunto di Sangue Rosso Nero, vi invito sempre a iscrivervi al canale a mettere un like oggi questo video un po' insolito dall'auto, appunto dalla mia bella lancia a delta allora ragazzi, incominciamo a parlare della partita vista appunto ieri in Brescia-Milan 0-1, grande vittoria dei ragazzi, anzi, solo i tre punti a dir la verità perché è stato un Milan dal punto di vista del gioco osceno, una schifezza a dir la verità proprio ci hanno preso un po' appallate, diciamocelo tutto che ci hanno dato di gran culo però, attenzione, io sono dell'idea che comunque il culo esiste nello sport ma vincere te la devi cercare comunque la vittoria, ora, parliamoci chiaro questo video viene fatto un po' in ritardo anche perché ieri ho visto la partita in replica dunque, ho dovuto anche, diciamo, non mettere il video in tarda serata ho preferito oggi, tutt'ora, con calma, fare questo video parlando subito della prestazione dei ragazzi allora, primo tempo, bene o male il Brescia ha avuto due o tre palle gol importanti noi una con Zlatan che se l'è mangiata dunque, errore da matita rossa ma si è rifatta nel secondo tempo con l'assist vincente per Ante Rebic cominciamo col dire che il primo tempo il Milan come anche un po' nell'ultima partita contro l'Udinese è stato un primo tempo da sei la squadra non era molto, diciamo, molto sul pezzo certo, i primi dieci minuti siamo partiti aggressivi pressing alto e dopodiché la situazione è andata pian piano scemando, il Brescia ha preso sempre più metri ci ha chiuso anche un po' spesso nella nostra metà campo poi il secondo tempo veramente è stato orribilante perché ci sono stati 15 minuti se non sbaglio, dal quindicesimo al trentesimo dove ci hanno veramente preso a bombardate in porta grazie a Gigio Donnarumma e una cosa ve la voglio dire, raga qui se Donnarumma fa una cacata Donnarumma è una testa di cazzo ed è un bidone se Donnarumma invece fa un qualcosa di buono non viene mai sottolineato Donnarumma veramente ci ha salvato il culo quattro volte su Torregrossa sicuramente c'è della fortuna anche perché non in Donnarumma perché c'è stata la semifesciata di Torregrossa che è andata a fil di palo ci sono stati anche un paio di golpi di testa sul calcio d'angolo il primo tempo dove De Sena prima e poi il difensore del Brescia si sono anche mangiati comunque un paio di gol semplici diciamo davanti alla porta però c'è da dire che Donnarumma nel secondo tempo è stato un mostro, raga mostruoso, mostruoso è stato un animale ricordiamoci che questo ha 20-21 anni ragazzi ha quasi 250 presenze in Serie A portiere della Nazionale questi numeri a 20 anni è andata a controllare non ce li aveva manco Buffon la sfortuna di Donnarumma è che non gioca in difesa con Turam, Cannavaro eccetera eccetera perché se voi mettete questo Donnarumma in porta con davanti alla difesa Nesta, Maldini, Cafu mettiamoci il cazzo volete voi state tranquilli che questo Donnarumma è uno dei portieri più forti al mondo già ad oggi una cappellata e quattro miracoli mi va benissimo un portiere del genere anche se di cappellata ne fa ogni morto di papa raga, ma non esageriamo vabbè torniamo alla prestazione fortunatamente, complessivamente la solita merda Cassi Cassi che veramente mi ha rotto i coglioni non ce la faccio più a vederlo se dico Cassi ma vabbè non le mi crani in gap le mi crani in gap dialetto barese fatemelo passare ogni tanto che quando mi girano le palle su certi giocatori Cassi io veramente spero che arrivi un'offerta da 5,50 euro ai saldi e ce lo rivino dalle palle veramente raga, ha rotto il cazzo c'ha due piedi a buccia di banana dei ferro da stiro a posto dei piedi quello è bello c'aveva il compagno a 3 metri nel secondo tempo ha sbagliato 3 appoggi da qui a qui 3 appoggi qua sto combant e là poi dalla dava no veramente chi è? si ha rotto i coglioni raga fortunatamente nel secondo tempo ogni lancio lungo su Zlata Zlata riusciva a tenere le palle a far salire la squadra e sono contentissimo per Rebic raga sono contentissimo per Rebic perché Rebic io l'ho sempre detto non stiamo parlando di un fenomeno non stiamo parlando di un giocatore ma raga se questo è titolare nella Croazia finalista dei mondiali di certo non è che stiamo a parlare della padura di turno questo vi voglio dire raga dunque Rebic sicuramente io lo metterei titolare occhio che anche a partita in corso se entra e spacca così va bene uguale però ogni tanto anche farò partita titolare sono convinto che non perda l'efficacia sono convinto che il giocatore alla lunga partendo sempre dalla panchina si può anche rompere il coglione dice cazzo io ogni volta che entro mi faccio trovare pronto ogni tanto ogni tanto mi vuoi far partire dall'inizio eh io sono dell'idea che Rebic nel 4-4-2 ha azzeccato ha giocato da seconda punta però raga ora parliamo delle pagelle allora Donnarumma 8 8 Sara Cinesca ha chiuso tutte le falle che si potevano chiudere ci ha tappato il culo prima delle varie inculate 3-4 volte su Torre Grossa su Bisoli anche 8 mostruoso Sara Cinesca conti 6 non una partita top compitino di Andrea che comunque sia piace non piace ma almeno cacata in difesa non è affatto un 6 tranquillo Kier allora raga a me Kier non piace è chiaro che un giocatore magari da 6 certo sulle palle alte è utile ma ha rischiato di farci rimanere in 10 io come voto gli do un 5 e mezzo sperando che non venga riscattato è quel difensore che dice ma da un momento al lato questo ti fa la cappellata ti fa la cazzata Romagnoli a Romagnoli 6 anche lui non grandi danni però si è perso spesso le marcature sulle palle da fermo ho notato nel primo tempo su un cross che andava dritto sui piedi di Dossena ha deviato salvando con questa deviazione il risultato un 6 ci può stare parlando invece di Teo allora primo tempo male primo tempo sbagliato 3-4 appoggi ha perso un paio di pallo in contropiede un paio di salvattaggi utili in difesa dunque Teo Orlandez primo tempo male nel secondo tempo sale in cattedra salta l'uomo riprende sgroppare che è una meraviglia sulla fascia e con un'azione in contropiede dove sfonda una traversa che la palla sta ancora viaggiando in orbita rischia anche di andare di nuovo in gol partita da 6 stavolta per Teo non voglio esagerare partita da 6 può fare molto di più nell'arco dei 90 minuti però ricordiamoci comunque che ha 21 anni ricordiamoci che ha 21 anni ed è un top già ora Castileio voto 7 ormai il 7 è fisso negli ultimi 15 minuti di partita quando eravamo in vantaggio di un gol Castileio ha fatto il terzino per aiutare Andrea grande sacrificio in avanti ha creato qualche azione qualche cross interessante niente di trascendentale ma sempre il solito giocatore che sputa sangue l'impegno nella sua non eccelsa tecnica l'impegno va apprezzato Benasser raga io gli do 7 e mezzo non me ne fotto un cazzo dite quello che volete stravedo non lo so ma salta l'uomo in continuazione a centrocampo in fase ha rischiato anche di andare in gol il primo tempo con un bel tiro di sinistro a fior di palo continua a smistare palloni gioca a due tempi rapido di pensiero questo è un giocatore che può farti tutto a centrocampo mi ricorda un po' quelli più grandi diciamo si ricorderanno quando Xavi giocava nella Barcellona attenzione non sto dicendo che Benasser e Xavi attenzione come ruolo era in grado di ricoprire il ruolo di regista e di mezzala come capacità di coprire il ruolo non tecnica perché Xavi è un mostro Benasser è un giovane interessante che comunque non fa mancare la gamba questo può crescere 21 anni pure lui 22 può crescere soltanto poi che dire Cassie 4 di nuovo io ormai a Cassie mi sono abbonato a dargli il 4 veramente uno dei peggiori mediani che ricordi nella storia del Milan mi viene da mettere la mano in del capito quando vedo Cassie giocare mi fa rimpiangere Sien mi fa rimpiangere Sien e Montari guardate Sien che non giocava più era un ex calciatore Bufaccia rimpiangere che almeno Sien ogni tanto la randellata la dava per quanto riguarda Cialanoglu un 6 e mezzo in fase difensiva se lo merita perché corre con un dannato in fase offensiva perde sempre di qualità sempre fuori ruolo però almeno parte da lui l'azione il lancio per Ibra che sforna l'assist per Rebic dunque a Cialanoglu mi sento di comunque dargli un 6 e mezzo ci può stare niente di eccelso anche lui Leao sentite su Leao io gli do il 6 5 e mezzo se a me non è piaciuto tanto perché ha perso di nuovo qualche pallone di troppo alterna purtroppo momenti nell'arco della partita dove passa dall'essere imprendibile dove ti salta l'uomo però quaglia non c'è non c'è niente non c'è niente non c'è niente non ti remporta non lo so alti e bassi non sei di fiducia più che altro perché comunque è giovane ci sta ma deve essere più incisivo e stare più vicino a Ibra per me a Ibra raga si è mangiato un gol il primo tempo che non è da Zlatan obiettivamente però nel secondo tempo non ha perso una palla quando gli veniva servita alta ha servito il passaggio decisivo l'assist decisivo per Rebic dunque a Zlatan un 6.5 ci sta comunque non va mai al di sotto dare un 5 a Zlatan non so quando lo vedremo mai comunque per quanto riguarda invece gli ingressi allora Clunic non do un voto perché ha giocato poco a Rebic raga io do un 7.5 a Rebic perché è entrato di nuovo con cattiveria prima palla che fa una sgroppata a centrocampo serve il compagno per la ripartenza un Rebic subito vivo si vede che ha ripreso fiducia si vede che ha boia comunque è un ragazzo di 23-24 anni non stiamo parlando di un giocatore espertissimo soprattutto fa Rebic fa una cosa che Cialanoglu non fa che Suso non fa lo sapete qual è entra in aria taglia in aria su quella palla di Ibra se ci fosse stato Cialanoglu in campo sono sbagliato no c'era Cialanoglu in campo però dico Rebic è stato messo da seconda punta se ci fosse stato anche un Leao Leao sarebbe stato o più sull'esterno ma non è detto che sarebbe entrato in aria come entra Rebic perché Rebic ha proprio l'abitudine che giochi ala che giochi seconda punta a tagliare sul secondo palo sempre sempre parte il cross da destra taglia sul secondo parte il cross da sinistra taglia sul secondo sempre così dunque un sette e mezzo sono merito io spero di vedere lo titolare ragazzi queste sono le pagelle io sto pensando di fare un video per parlare di quello che sarà probabilmente l'ultimo copo di mercato del Milan che dovrebbe essere il sostituto di Hernandi Rodríguez scusate Robinson del Wigan andremo a parlare anche dalle possibili cessioni di Suso nel caso e di Piontek le parole del padre di Piontek sono da mettersi alle mani i capelli manco stessimo parlando di Van Basten comunque ragazzi ricordatevi iscrivetevi al canale e datemi una mano a crescere vi mando un abbraccio forza Milan un abbraccio ciao